Volevo dire che mio padre ad Asia ha dato una rubrica Sì, ero molto amica di Vittorio Sì, lo saprà anche Gabriella, eravamo molto amici Per tanti anni mi ha presentato tutti i suoi figli Tranne Fabrizio E ha fatto bene, secondo me, già capiva Gabriella, che nuora sarebbe stata? No, ma io la reputo una ragazza molto intelligente Quindi, siccome amo l'intelligenza più che la bellezza e tutte le altre cose Sarebbe stata per me una buona nuora Ha detto che ha creato anche lei Ha creato tutti, anche lei ha creato Com'è possibile che abbia creato lei, suo figlio? No, assolutamente no È il suo narcisismo che glielo fa dire Non mi ha creato per niente Sono io che ho creato lui Sì, purtroppo non è riuscito molto bene sotto certi aspetti Mamma, mamma Grazie a tutti